In un normale controllo stradale di qualche giorno fa, un 33enne residente a Poirino nel Torinese viene trovato con un coltello a serramanico e una settantina di lettere sul sedile posteriore della sua auto. Nessuna intestata a lui, tutte di un corriere privato. Era solo l'aperitivo. In casa, i carabinieri di Santena gli hanno trovato 400 chili di corrispondenza mai recapitata. L'uomo, un ex dipendente di un corriere privato, si è giustificato dicendo che non lo pagavano abbastanza e quindi aveva smesso di consegnarla e si era licenziato. Da due anni, la corrispondenza a lui affidata veniva portata solo in parte a destinazione e così lettere di banche, estratti conto e bollette telefoniche indirizzate a enti, aziende e privati rimanevano a casa sua, accumulandosi una sull'altra. Nelle immagini rilasciate dai militari che lo hanno denunciato per sottrazione ed appropriazione indebita di corrispondenza, si vedono decine di scatole con migliaia di lettere mai consegnate. Per il coltello a serramanico che gli è stato trovato durante il controllo stradale, l'uomo è stato denunciato per porto abusivo d'armi.